benvenuti a tutti allora questo è il primo webinar di legal hacker milano del 2021 ovviamente saranno probabilmente per un bel po' ancora online e abbiamo deciso di dedicare questo evento al legal design anche sulla scia di dell'evento che c'è stato dell'hackathon dedicato al legal design che è stato organizzato dai nostri amici di legal hacker roma e che ha visto una grande partecipazione oggi con arianna rossi e rossana ducato due studiosi italiane che lavorano all'estero e che si interessano di legal design da tempo cercheremo di affrontare questo argomento non tanto da un punto di vista come dire e di da scalico quanto da un punto di vista sia accademico che pratico però cercando di sfatare alcuni miti che si sono nel frattempo che sono cresciuti attorno al legal design di chiarire alcuni equivoci o alcuni dubbi che ci sono intorno a questa espressione che già di per sé a mio parere magari poi non diciamo perché è anche un po' equivoca allora lo faremo partendo da da quello che è appunto all'esperienza lavorativa di studiose di arianna e di rossana e per questo chiedo già possiamo iniziare quindi possiamo passo la parola ad arianna e se ci può dire che cosa fa e magari anche spiegarci in che tipo di processi di progetti coinvolta sarà magari anche coinvolta in quest'anno come ricercatrice grazie grazie giorgio per l'invito e salve a tutti innanzitutto buon anno sono felicissima di vedere tantissime persone qua connesse e vorrei magari cominciare anche dicendo che io sono organizzatrice di legal hackers luxemburg e quindi sono anche una come dire una collega da quel punto di vista magari anche di di alcuni di voi ed è un'esperienza molto bella e appunto come dicevo io sono sono basata a lussemburgo e ehm sono una ricercatrice di un centro di di ricerca che si occupa di molte questioni che hanno a che fare soprattutto con l'informatica diciamo e soprattutto con sequenza e privacy ehm e ehm diciamo partendo magari un po' dalla mia storia forse dal mio passato per capire anche come sono arrivata qui e poi appunto introdurrò magari alcuni dei progetti che facciamo al momento ehm io ho fatto un un dottorato in Italia in realtà all'Università di Bologna era un dottorato internazionale un Erasmus Mundus quindi diciamo la mia alma mater all'Università di Bologna con la professoressa Monica Palmirani suppongo che ci sia qualcuno qui che che sicuramente la conosce ehm ed era un dottorato molto innovativo perché si trattava di eh diciamo abbiamo preso il doppio titolo di eh in diritto e anche in in informatica eh e quindi diciamo era un posto molto fertile per dei progetti innovativi infatti il mio progetto poi è stato è stato focalizzato completamente sul legal design che al tempo poi al tempo veramente parlo di pochissimi anni fa eh però al tempo diciamo era una una parola nuova era una disciplina nuova era un campo di applicazione completamente nuovo io ho cominciato il mio dottorato nel duemila quindici fine del duemila quindici ehm pensiamo che il primo legal design summit è stato fatto nel duemila sedici quindi insomma diciamo che negli ultimi anni c'è stata veramente una una grande evoluzione ehm e nel mio dottorato mi sono diciamo interessata di molte di molte questioni la questione principale era come mettere in pratica il principio di trasparenza della GDPR con poi una una diciamo un focus molto specifico sull'icone cioè come come si creano queste icone ah che dovrebbero servire per per aumentare la trasparenza delle informazioni giuridiche ehm come le creiamo quale metodologia utilizziamo come si può cercare di non perdere diciamo il messaggio giuridico che viene da da una parte scritta diciamo da un testo scritto e come si può renderlo visualmente e per fare ciò ehm abbiamo ehm una delle cose che vorrei menzionare che anche l'occasione in cui ho conosciuto Giorgio è che abbiamo se ti ricordi bene abbiamo ehm diciamo abbiamo abbiamo utilizzato un metodo di design partecipativo cioè abbiamo cercato di coinvolgere molte professionalità e non solo non soltanto gli esperti ma anche cittadini che erano interessati al tema per cercare di capire insieme quindi appunto dando un taglio molto interdisciplinare come poter eh trasformare proprio come poter tradurre addirittura alcuni messaggi in immagini immagini molto semplici quindi per farlo abbiamo organizzato dei workshop all'Università di Bologna in cui hanno abbiamo coinvolto ehm ehm appunto persone con esperienze molto diverse eh c'era chi veniva dall'industrial design quindi abbiamo collaborato anche con la Scuola di Belle Arte di Bologna è stato è stata un'esperienza molto molto interessante perché noi in realtà dal nostro punto di vista davamo diciamo la parte più giuridica giuridico informatica ehm e ehm e questa è una delle metodologie che diciamo abbiamo eh applicato perché abbiamo visto al Legal Design Lab di di Stanford che è diretto dalla da Margaret Hagen quindi un po' da dove diciamo sembra essere nato il movimento del Legal Design in 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 California ehm non solo chiaramente però lei è stata è stata e è ancora una grande una grande sostenitrice ehm del Legal Design e mh per dire dove siamo arrivati ora beh io ehm sono due anni ormai che lavoro come postdoc quindi come ricercatrice in questo centro di ricerca il mio gruppo di ricerca al contrario degli altri che sono puramente tecnici si occupa di quelli che vengono chiamati aspetti umani della privacy e della sicurezza human aspects of privacy and security e mh e anche qui eh diciamo è molto ehm siamo i nostri profili eh i profili dei miei colleghi anche sono molto molto vari e quindi appunto anche qua c'è molta interdisciplinarità perché abbiamo persone che appunto sono UX designer abbiamo persone che hanno più una esperienza informatica in informatica e anche di ingegneria e ingegneria e ingegneria della sicurezza ehm e collaboriamo spesso con con altre facoltà quindi collaboriamo con la facoltà di diritto e collaboriamo molto in realtà anche con la human computer interaction quindi coloro che si occupano di interazione uomo macchina che solitamente prevede diciamo sono o vengono da un curriculum più eh di design e di informe o di informatica o vengono da un curriculum più incentrato sulla psicologia eh quindi appunto questo giusto per dare un'idea del del tipo di professionalità con cui lavoriamo quindi appunto per me ecco passando forse un primo messaggio il legal design è super interdisciplinare ma anche va al di là di quello che che ci aspettiamo quindi non è soltanto law and design ehm parlando di questo ne approfitto appunto per per parlare di un paio di progetti che che cominceremo in questo anno appunto per dare un'idea di 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 quanto possiamo spaziare di quanta anche no di quanto possiamo ehm come dire di di quanto spazio c'è anche per essere innovativi e essere creativi e eh risolvere lo stesso problema da tanti punti di vista diversi ehm parliamo beh innanzitutto uno dei 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 progetti che abbiamo fatto finora ehm continuando anche un po' il lavoro eh sulla la trasparenza e sulle icone eh se vi può interessare eh soprattutto poi appunto riprendendo il fatto che c'è stato questo hackato nel mese scorso ehm è un un forum che abbiamo aperto con dei con dei colleghi soprattutto i colleghi eh di università berlinesi centri di ricerca berlinesi che si chiama privacy icons forum e ultimamente abbiamo fatto un esperimento cioè abbiamo provato a ridisegnare la privacy policy di questo privacy icons forum che era stata scritta da una persona con una con un'esperienza prettamente giuridica ehm fra l'altro posso mandare anche il link dopo in magari in chat eh comunque se cercate privacy icons forum andate a vedere la privacy policy dovreste riuscire a trovarlo c'è anche un blog post in cui spieghiamo quali tipi di metodi quali tipi di strategie di trasparenza abbiamo utilizzato per cercare di rendere questa privacy policy più comprensibile in primo luogo ma non soltanto anche più navigabile mettere in risalto quali sono le informazioni più importanti fondamentali da ritenere e poi lasciare le altre informazioni in livelli meno diciamo meno meno visibili meno apparenti in modo che ci sia una chiara struttura una chiara gerarchia delle informazioni che uno una persona che vuole soltanto dare un'occhiata eh a una privacy policy avere una una overview no quindi una 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 prima impressione ehm appunto quello che abbiamo fatto chiaramente un esperimento quello che è stato interessante è che eravamo eh diverse a farlo ci siamo ritrovati in modo soprattutto durante il lockdown ci siamo ritrovati in modo regolare però c'erano eh esperti di protezione dei dati quindi con una con una esperienza prettamente giuridica c'erano informatici sono i UX designers quindi potete soltanto immaginare quanti mesi ci abbiamo messo eh per trovare degli accordi tra di noi su cosa veramente sarebbe andato in questa privacy policy quello che secondo me era troppo giuridichese ehm quello che invece doveva assolutamente esserci e invece secondo me da un punto visto degli utenti non avrebbe non avrebbe dovuto esserci ora non vi non vi sto non vi sto veramente a tediare con questo però è stato un esperimento interessante perché lì veramente c'è la collaborazione tra diversi eh diverse esperienze no e diversi anche se ci si rende conto di quali sono le priorità a seconda di del diverso profilo professionale che uno ha ehm e questo è uno dei diciamo è un progetto che abbiamo fatto in realtà in part time quindi quindi come dire il nostro tempo libero in realtà eh per quanto riguarda proprio progetti accademici ehm voglio parlarvi di due progetti che stanno cominciando ora in cui sarei coinvolta ehm e allora il primo ha sempre a che fare con la trasparenza eh si tratta però di trasparenza in ambito biomedico soprattutto ehm e eh diciamo che si tratta di una collaborazione con una startup che è basata qui a Lussemburgo ehm con cui abbiamo un programma di ricerca che parla di svariate cose ehm soprattutto di temi di privacy e sicurezza è una startup che si occupa del della dell'uso di dati genetici genetici eh quindi come potete immaginare dati super sensibili ehm e abbiamo cercato anche di ehm formulare delle domande di ricerca che riguardano la trasparenza cioè come facciamo a creare a disegnare a a a a a a immaginare anche soltanto un'esperienza di consenso informato mediato attraverso ehm attraverso eh mezzi elettronici quindi attraverso ad esempio un'applicazione eh un consenso informato per qualcosa che è veramente molto appunto come dicevamo un argomento molto sensibile ci ehm ci possono essere ripercussioni sugli utenti enormi a seconda di quello che loro vengono a scoprire attraverso eh l'analisi dei dati genetici e dobbiamo anche cercare di fare in modo il dato che lo scopo è il riuso di questi dati dobbiamo anche cercare di fare in modo mh che le persone che gli utenti che hanno concesso questi dati si rendano conto di cosa vuol dire riusare questi dati per quali scopi e che veramente riescono a a mettere in pratica la loro autonomia decisionale nel dire va bene voglio dare questi dati per questa certa ricerca voglio condividerli per altri motivi con certe compagnie e quindi è molto molto complesso ehm come fare per farlo ehm ci sono moltissimi metodi ehm e uno di quelle che utilizziamo viene da metodi di scienze sociali quindi si tratta più che altro di questionari di interviste di focus group nel quale veramente si vanno a ad analizzare cercare di 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 tirare fuori quali sono le opinioni quali sono le preoccupazioni quali sono le motivazioni delle persone per ad esempio eh riuscire a condividere per condividere i propri dati di genetici o no e anche quali motivazioni invece li trattengono dal non farlo no quindi è molto importante per una tecnologia anche capire perché alcuni utenti non vorrebbero utilizzarla ehm parliamo no so pensate ad esempio alle contact tracing apps no? Ehm e ehm chiaramente no se non c'è se non c'è partecipazione un'applicazione è è è completamente non viene utilizzata allora non di cosa stiamo parlando eh questa è una delle cose più diciamo tradizionali che facciamo in realtà ehm utilizzo vorremmo vorremmo utilizzare vi sto parlando in potenza perché sono dei progetti che stanno cominciando quindi non vi posso ancora dare dei dei risultati però eh quello che abbiamo pensato di utilizzare è anche un metodo chiamato quello del della design fiction e quindi si tratta di eh di speculazione di speculazione di come le cose potrebbero andare se non andassero come vanno eh potete chiamarlo thought experiment potete chiamarla fantascienza eh in realtà nel nel design si possono si può essere anche una metodologia per cercare soprattutto nelle nuove tecnologie di far riflettere le persone anche da un punto di vista etico eh su quali potrebbero essere gli sviluppi in futuro nel momento in cui si creano certe tecnologie e si pensa soltanto all'innovazione e al potenziale ai potenziali benefici ma a volte è molto difficile prevedere quali possono essere invece le distopie che si possono creare ehm quindi ecco in questo in questo in questo progetto come vedete c'è ci sono scienze sociali c'è psicologia c'è design eh c'è informatica c'è anche bioetica e c'è diritto quindi diciamo ci sono tutte queste 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 discipline ehm che devono collaborare insieme affinché riusciamo ad avere dei risultati che che siano che siano che siano quelli che ci auguriamo da tutti i punti di vista ehm Arianna ah vai volevi continuare? No volevo chiederti eh la multidisciplinarità è saltata no? Da te è una delle cose che piace di più no? Di questo approccio e allora in tutti questi progetti invece eh l'ostacolo maggiore secondo te quale è quale è stato? La cosa che anche dal punto di vista tuo di non giurista eh eh qual è stato la cosa che frena di più il il lavoro multidisciplinare anche gli avvocati? In pratica o per avere? No in pratica in pratica no in pratica beh senti eh in pratica bisogna trovare secondo me delle persone che abbiano voglia abbiano il desiderio di confrontarsi con dei temi con cui non sono familiari eh abbiano il desiderio anche di eh di appunto di vedere certi problemi da un punto di vista diverso eh di di appunto di andare a approfondire eh tematiche che non sentono facciano parte della loro esperienza che debbano fare parte della loro esperienza ehm però ad esempio anche noi come lavoriamo a livello di gruppo di ricerca in realtà ad esempio eh quello che cerchiamo veramente di fare come come missione è che si entra dentro con un certo bagaglio culturale con un certo bagaglio professionale chiaramente con una certa eh expertise eh però con l'idea che abbiamo una mente aperta ad accogliere altri metodi di ricerca ad esempio che non fanno propriamente parte del nostro eh bagaglio eh quindi la difficoltà secondo me è avere questa flessibilità mentale forse eh chiaramente nel momento in cui si vanno ad aprire molte discipline eh c'è si corre il rischio di non riuscire ad approfondire perché per molti motivi abbiamo limiti di tempo abbiamo limiti di risorse mentali anche quindi non è che possiamo diventare esperti di tutto e questo è il problema quindi bisogna trovare degli degli esperti con cui possiamo collaborare in modo in modo anche quotidiano eh in cui con i quali riusciamo a integrare il nostro sapere ah visto che qui quelli che ci ascoltano molti sono avvocati giuristi avvocati dal tuo punto di vista eh la l'apporto degli avvocati cioè gli avvocati spesso costituiscono un ostacolo è è vero così come solitamente è spesso in azienda eh ad esempio oppure no oppure quelli con cui hai avuto a che fare hanno comunque diciamo un certo tipo di mentalità che è più volto alla collaborazione ad apprendere cose nuove e così via nella tua esperienza quindi forse è un po' diverso dalla realtà aziendale immagino non lo so ehm per fortuna le persone con cui ho avuto a che fare io sono persone apertissime e e quindi molto collaborative eh quello che ammiro molto è che almeno le persone appunto con cui ho collaborato riescono ad andare veramente in profondità e analizzare un problema che a volte per noi non sembra così importante in un modo veramente molto appunto a 360 gradi e a farti anche comprendere il perché è un problema è un problema serio poi eh chiaramente il punto di vista è diverso no quindi se parliamo di disegnare una privacy policy magari eh cioè bisogna sempre cercare di di avere il punto di vista dell'utente ben chiaro ehm quindi ecco la difficoltà magari nel cercare di dire va bene capisco tutto quello che si sta dicendo e perché dal punto di vista di un avvocato tutto ciò è molto importante anzi fondamentale però c'è anche questo punto di vista che è il punto di vista dell'utente che a volte non è lo stesso il punto di vista della legge e quello la difficoltà a volte che ho trovato è stata quella di ehm riuscire a far passare il fatto che magari possono essere sui sullo stesso piano e non che per forza uno è subordinato all'altro che quindi la legge vince soprattutto ma forse che anche appunto il punto di vista dell'utente deve essere preso molto in considerazione prima di approfondire altri aspetti tra quelli che hai sollevato passerei la parola a Rossana così si presenta e ci descrive un po' che cosa fa sì 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 molto con piacere intanto grazie mille Giorgio per l'invito è un piacere poter conversare con te con Arianna e poi apriremo le danze apriremo la discussione con i partecipanti ehm io sono lecturer in IT law and regulation all'università di Aberdeen alla facoltà di giurisprudenza ehm ho avuto una formazione per certi versi opposta a quella di Arianna sebbene poi siamo arrivati a un punto di convergenza eh come lei diceva lei di formazione è una linguista poi ha fatto un dottorato interdisciplinare eh io ho fatto il classico cursus honorum eh giuridico nel senso che eh mi ho fatto eh giurisprudenza all'epoca era il 3 più 2 all'università all'università di Trento eh poi ho avuto questa eh idea di continuare a studiare eh facendo il dottorato in eh diritto e tecnologia formalmente era diritto diritto privato comparato però sempre eh mi sono sempre interessata dei delle questioni giuridiche legate alle tecnologie emergenti e mh e l'interdisciplinarietà è entrata a quel punto quando quando facevo il dottorato perché dovendomi occupare di eh fascicolo sanitario elettronico, biobanche di ricerca o si capisce quello di cui si sta parlando altrimenti è inutile che andiamo ad applicare le categorie giuridiche a quell'ambito e quindi quello è stato un po' il primo impatto con il giurista non si occupa solo di diritto. Eh poi eh nell'ambito dei postdoc che ho fatto successivamente prima a Trento ho avuto la fortuna di lavorare in collaborazione sempre a Trento con la fondazione Bruno Kessler in particolare ad alcune eh ero in un team che sviluppava eh app di telemedicina eh e quindi lì proprio c'è stato un un incontro di differenti eh expertise perché c'era l'informatico che sviluppava l'app c'era il medico specialista di quella determinata patologia eh c'erano i sociologi che cercavano di capire eh come il paziente di cosa ha bisogno eh come possiamo far usare questo al paziente questa app di telemedicina al paziente ma anche al medico perché se il medico non si sente a suo agio nell'utilizzare questo tipo di tecnologia non capisce quali sono le responsabilità e qui entravano in gioco i giuristi eh quindi è stato proprio uno un lavoro collettivo eh interdisciplinare in questo senso eh ho continuato eh in eh sempre in questa chiave interdisciplinare nel nel postdoc in Belgio alla alla UC Ruvan dove mi occupavo di e qui arriva l'incontro fortunato con Arianna di ehm di dell'implementazione del principio di trasparenza sia in ambito di di protezione dei dati personali che in ambito di protezione del consumatore e in particolare come possiamo implementare il principio di trasparenza in maniera pratica eh beneficiando delle metodologie del design ma anche dell'analisi comportamentale quindi di studi di psicologia, di behavioral law in economics eccetera. E c'è stato questo eh momento di scoperta del legal design nel nel 2017 dove eh ho visto c'era questo evento legal design eh summit a a Helsinki eh ho visto di cosa si occupavano e ho detto questo è quello che sto facendo io quindi forse posso imparare qualcosa eh e da lì è cominciato tutto è cominciato un po' questo percorso di di scoperta eh di studio e di ricerca perché è un è un continuo è un processo in continua evoluzione ecco non si non si finisce mai. E che cosa ho fatto di di legal design in questi anni? Quali sono i progetti su cui sono al momento? Eh abbiamo con alla UC Ruvan con Alan Strowell che è professore di proprietà intellettuale eh un un corso Jean Monnet eh su European IT law by design quindi dove cerchiamo di eh eh introdurre gli studenti allo studio dell'information and technology law attraverso la lente eh del legal design e quindi è un è un è un corso molto eh pratico dove gli studenti iniziano ad avere consapevolezza di eh metodologie empiriche eh per poter inquadrare i problemi juridici e risolverli con nuove chiavi di lettura e poi un altro progetto dove stiamo che è tuttora in corso eh sempre un altro progetto Jean Monnet in collaborazione con altre università a europee SHINE eh sharing economy and new form of inequalities in particola in particolar modo il nostro gruppo di ricerca si occupa di come utilizzare il legal design per eh non vengono più le parole in italiano questo è un grosso problema per eh eh eliminare i pregiudizi eh per cercare di ridurre i rischi di discriminazione eh nei rating e nelle review delle piattaforme delle delle piattaforme digitali della sharing economy quindi questo così una un'introduzione generale di quello di cui mi mi occupo al al momento allora iniziamo anche a fare domande un po' più così per chiarire e sgombrare il campo dagli equivoci cose che mi fanno tremare tranquilla ehm allora al momento a mio parere dal punto di vista eh italiano che non so quanto sia differente davvero dall'estero eh si è avuta questa situazione ehm esploso il legal design si può dire nell'ultimo anno eh in Italia sono fioriti eventi podcast video da parte eh di soprattutto di avvocati ehm e questo è stato soprattutto dopo l'evento del legal design summit l'ultimo che si è avuto dal vivo eh in cui ha avuto ad esempio mi sa occasione di conoscere Rossana proprio stato allora da Helsinki ehm allora si è avuta questa esplosione eh solo che in Italia eh si identifica il legal design eh come semplicemente come eh la comunicazione chiara di contenuti legali cioè quindi come eh quello che noi parlando di questo evento prima tra noi abbiamo detto solo come information design no mentre il legal design dovrebbe essere altro eh allora secondo voi ehm cioè questo questo aspetto questo equivoco o comunque questa sottovalutazione avviene anche all'estero secondo il vostro punto di vista e che cosa c'è di più dell'organizzare comunicare in maniera chiara dei contenuti eh legali eh voglio iniziare non so chi delle due rispondere ma guarda secondo me sì è un po' un'idea molto molto come dire molto sì anche qui italiano fantastico che è molto è un'idea che 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 gira molto ecco secondo me a livello mondiale io non posso parlare della situazione dell'Eussemburgo se posso dire la verità nel senso che chiaramente siamo una realtà molto piccola eh è una realtà in cui appunto anche intanto che legal hackers conosco veramente le 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 gli studi legali che ci sono di grosse compagnie tanto che uno degli organizzatori che fa con me legal hackers ehm dall'anno scorso è ehm ufficialmente legal designer di una grande compagnia eh di una grande scusa di un grande studio legale qua eh internazionale quindi secondo me sì anche qua si comincia ad apprezzare sempre di più l'importanza di una figura professionale di questo genere da un punto di vista proprio aziendale però se ad esempio andiamo a parlare con lui di quello che fa in azienda fondamentalmente si tratta di comunicazione comunicazione chiara si tratta anche spesso di ehm tecnologia tu che fai legal design allora sei innovativo e sei al passo con la tecnologia sicuramente saprai utilizzare questo tool ehm ora ve la sto facendo però possono capitare queste cose c'è c'è molta secondo me anche confusione di che cos'è di cosa non è ehm chiaramente sì c'è una grandissima attenzione dal mio punto di vista sull'information design che è molto importante però molta meno su metodi di ricerca ehm che invece sono altrettanto importanti metodi di ricerca che vuol dire che eh come facciamo a analizzare la realtà come facciamo a affrontare certi problemi e qui si va sul fatto che il legal design secondo me è più un approccio e spesso è un approccio di problem solving come tantissimo design thinking che viene utilizzato anche non soltanto nel campo giuridico ma anche nel campo medico nel campo in qualunque altro campo ehm e quindi no forse bisogna più che sul risultato finale sul fatto che chiaramente c'è una grandissima parte di trasparenza una grandissima parte innovativa sulla comunicazione che secondo me è fondamentale perché ne parliamo da centinaia di anni e siamo ancora allo stesso livello di incomprensibilità giuridica ehm però non è soltanto questo quindi sì sicuramente dal mio punto di vista c'è un po' questa questa incomprensione ma mi rendo conto che in realtà sempre molte più persone parlano di design thinking parlano di metodi di ricerca quindi forse sta un po' cambiando. Sì no io anch'io sono assolutamente d'accordo nel senso che eh una volta mi sa che questa cosa avevo già detta eh quando si parla di eh legal design nel senso adesso faccio il contratto con le icone o con i disegnini o faccio anche ricerca empirica per fare un contratto che sia effettivamente comprensibile in maniera che posso andare a verificare con delle metriche con delle misure quindi c'è anche ricerca la eh credo che ci sia un po' il dramma della sineddo che cioè eh si è partiti onestamente con l'applicazione dell'information design che è una branca più del più ampio design eh ai documenti giudici eh e quindi c'è più lavoro c'è più letteratura in quell'ambito là e l'equivoco può essere che si tenda a pensare che il legal design sia solo quello. In realtà eh se parliamo di legal design nel senso di law and design movement quindi significa applicare le sensibilità, le metodologie, gli approcci del design al mondo del diritto c'è molto più dell'information design perché in ambito di design c'è il design di prodotto quindi quando andiamo a creare dei oggetti materiali c'è il service design che riguarda la logistica, l'organizzazione strategica eccetera c'è il system design che comprende il design di sistemi complessi eh design che va a studiare l'interazione tra l'uomo e l'ambiente circostante e quindi in ambienti per vivere, per lavorare, per apprendere, per esercitare la giustizia. Quindi arriviamo fino all'access to justice. Quindi credo che il mondo del law and design sia vario, complesso. Eh l'information design è una parte importante su cui si è lavorato parecchio e secondo me ci sono già alcuni strumenti che si possono riutilizzare in maniera molto efficace soprattutto nella pratica legale. Se ne deve continuare a parlare anche di information design nel senso che non è un capitolo oramai chiuso, perfetto, abbiamo raggiunto l'apice e ce ne dobbiamo dimenticare. Però è vero che c'è tutto un mondo eh c'è c'è tutto un altro eh area da da esplorare. E poi un'altra area su cui designer tengono eh eh spesso ad accentuare eh insomma eh cercano di portare l'attenzione anche su questo. Attenzione perché il design thinking è solo un aspetto del design. C'è anche il design intenzionale, il design critico eh dove è l'opinione del designer che vuole cercare di alimentare il dibattito, non vuole dimostrare niente attraverso studi empirici. Quindi anche lì quando parliamo di design l'importante è capire che ci sono diverse eh diverse aree, diversi spazi per per il design. Quindi eh secondo me siamo ancora nell'ambito della mappatura delle possibilità che il design ha da offrire per il diritto. Eh una delle cose che ho rilevato io è che eh questo equivoco viene alimentato da eh dalle stesse persone che portano avanti il sostenitore diciamo del legal design. Mentre diciamo in anteambiti di design eh se leggete qualsiasi libro una delle nelle introduzioni si dice eh attenzione il design non è l'aspetto estetico, non è la forma, cioè il libro scritto dal designer è lui che lo dice eh per primo. Nel nostro ambito sembra invece che chi dice di occuparsi di legal design eh invece accentui proprio l'aspetto estetico. Come dire l'aspetto comunicativo e l'aspetto estetico. C'è questo diciamo equivoco di fondo che viene portato da chi invece dovrebbe chiarire le cose. Nella mia esperienza io eh faccio riferimento ad un caso eh di eh di un'azienda che ha un e-commerce eh che si era rivolta a me per rivedere dei termini e delle condizioni d'uso. Eh appunto facciamole qualche icona mettiamo perché ho sentito in maniera vaga parlare il legal design mettiamo le più carine così. Allora eh avevo chiesto che quale fosse il problema cioè che cosa spingesse a rivederle e eh il problema era emerso a livello di diritto di recesso. Cioè il diritto di recesso avevano tanti problemi perché il call center e anche il sia per telefono quindi che via email o via chat bot via chat quindi erano subissati tra virgolette di richiesta relativa al diritto di recesso perché la gente non capiva come effettuare un reso. E allora doveva essere soprattutto rivista quella parte lì. Allo stesso tempo però indagando su questo diritto di recesso è venuto fuori non solo che era comunicato male ma anche che all'interno dell'organizzazione aziendale. Eh le varie i vari silos non erano collegati cioè nessuno presidiava l'email effettivamente che a cui venivano mandate le richieste di recesso. Non c'era non era presente un form sul diritto di recesso all'interno del sito e eh quindi tutto questo a livello di procedura a livello organizzativo a livello di servizio no per parlare di service design eh si rifletteva in maniera negativa perché c'erano ritardi nelle risposte al cliente oppure eh non venivano assolutamente vase le richieste di reso inviate ad esempio via email o o via chat per cui una delle cose che abbiamo fatto è stato proprio ridisegnare l'intera eh procedura l'intero sistema eh l'intero servizio relativo in questo caso al diritto di recesso per cui disegnare un workflow fare la customer journey no e e poi fare una mappatura eh di di tutti i touch point dell'utente relativa al diritto di recesso e poi vedere appunto come si evolveva fino ad avere un cliente soddisfatto nel momento in cui intendeva esercitare diritto di recesso in cui ho citato questo caso perché mi è sembrato come dire una maniera eh concreta plastica di vedere da un lato l'aspettativa dell'imprenditore che mi aveva contattato perché ha sentito parlare di real design come rifare termini e condizioni in maniera carina più simpatica più accattivante dall'altro però andando a fondo eh anche attraverso degli strumenti dei tool di design di ricerca nella fase di ricerca abbiamo scoperto che in realtà il problema era un altro eh più che altro eh Arianna volevi dire ma possiamo dire allora che forse una delle delle come dire delle parti fondanti legal design eh sapere chiedere le domande giuste cioè stavano andando a guardare il problema sbagliato e attraverso la domanda giusta avete capito esattamente qual era in realtà il vero problema e infatti anche la tecnica solita dei perché dei cinque perché si dice vabbè eh cioè infatti è quello che ho fatto che perché le volete rifare ah no perché siamo ogni tanto abbiamo delle richieste perché avete queste richieste ma no perché non capiscono addirittura di recesso e perché non lo capiscono addirittura di recesso ecco e alla fine sono arrivato al fatto che era un po' disastroso l'organizzazione e questo perché è avvenuta tra l'altro diciamo organizzazione disastrosa anche perché le aziende ovviamente coinvolgono il legale alla fine del processo ah devo andare online mettimi tutto il sito metti in termini condizioni d'uso eh nel giro di una settimana di cinque giorni uno butta lì e l'avvocato poi ovviamente anche cioè si disinteressa del resto mentre in realtà si potrebbe fare eh molto di più ad esempio in tema privacy eh non è solo l'informativa ma può essere molto di più la costruzione dei form e dei form e anche i microtesti curare i microtesti con cui viene richiesto il consenso e con cui vengono richiesti vari dati a questo proposito ad esempio una parte che secondo me da noi avvocati è molto sottovalutata quella relativa che contenuta le indicazioni contenute nelle linee guida sulla trasparenza sulla privacy dei by design dei garanti europei in cui ti dice ti indica proprio dei modi attraverso cui poter essere più trasparenti anche dei modi attraverso cui secondo me l'azienda può riuscire a ricavare più dati eh tramite trasparenza fare un uver cioè dare una information just in time appena va a cliccare sul singolo da cioè sul singolo campo del da del form e così via e da questo punto di vista secondo me noi come consulenti possiamo essere molto utili perché eh soprattutto in un'epoca in cui a livello di cookies ad esempio sta succedendo un cataclisma per chi si occupa di marketing che ha molti dati meno dati a disposizione e quindi può far leva sui fattori della trasparenza o comunque su strumenti che sono anche previsti dai eh garanti europei eh quindi abbiamo detto che mh diciamo probabilmente uno degli aspetti più sopravvalutati ma non ne notate quello dell'information design e uno degli aspetti quelli sottovalutati sono gli altri ambiti no la fase di ricerca ad esempio eh se non sbaglio tutta anche la la conoscenze nel campo secondo me delle scienze cognitive perché costruire un determinato forum in una certa maniera o costruire un'informativa privacy in una certa maniera e così via lo si fa perché eh non a caso insomma non lo si può fare a caso e questo può appunto aiutare molto l'azienda eh secondo voi da accademiche eh cioè da studiose eh come possono essere diciamo eh trasportare trasbordate trasportate queste vostre conoscenze in campo accademico dove sono c'è più diciamo cognizione di procedure di processi di nozioni in ambito eh nell'ambito più pratico eh dei consulenti degli avvocati cioè come si può colmare questo gap tra accademia e mondo non mi viene la realtà di tutti i giorni viene da dire business a realtà business Arianna inizia pure tu sì ma senti ehm io non ho tutta questa esperienza sinceramente quindi non so se Giorgio ci sei ancora ok sì ci sono mi stavo spostando un attimo perché avevo il sole in faccia pensavo ci fosse un problema tecnico ehm beh secondo me non so quello che mi quello che mi quello che mi chiedo è eh quali tipo di competenze vogliamo vogliamo che magari il giurista del futuro abbia anche il giurista del presente in realtà eh e e quali sono le competenze chiave perché appunto abbiamo toccato veramente tanti ambiti veramente tanti aspetti poi c'è bisogno di specializzarsi comunque ehm che siano forse più competenze meta competenze quindi la capacità di di collaborare la capacità di pensare praticamente ehm o sono delle competenze un po' più dure diciamo quindi forse delle competenze metodologiche ehm se se parliamo di formazione se parliamo di 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 appunto questo passaggio da dal dal verso un mondo più aziendale eh ad esempio quello che che mi piace molto fare con il Legal Hackers Luxemburg abbiamo già avuto un paio di occasioni ma in realtà quello che che vedo che succede anche a livello di CNIL in Francia eh succede in molti altri ambiti ancora è quello di di organizzare dei workshop come magari può essere stato un hackathon cioè di fare veramente delle esperienze pratiche con delle professionalità diverse in cui ci si rende conto che le parole che si usano magari hanno un altro significato concreto in cui ci si rende conto che alcune assumption no alcune pre alcune ipotesi alcune opinioni che avevamo eh magari non sono non non vengono interpretate nello stesso modo da persone che hanno un'esperienza un bagaglio culturale diverso eh quindi se ti dovresti rispondere forse sarebbe con con molta molta pratica e chiaramente anche con quello che noto ad esempio è che magari c'è moltissimo materiale sul Legal Design in inglese però non so quanto e in francese anche eh non so quanto sia vero in altre lingue non so se magari anche questa potrebbe essere un motto per per passare di una maniera molto più completa a trecentosessanta gradi tutte le varie sfaccettature che sono importanti nel Legal Design perché si trova in in linea in italiano soltanto alcune cose magari sono molto parziali appunto non danno un quadro completo magari questo può essere anche una delle delle sfide che ci possiamo dare per il futuro. Secondo te Arianna invece che cosa come si può colmare sia il gap sia le sfide per il futuro a questo punto perché è una delle delle questioni che si pongono quella di appunto anche colmare questo spazio è un problema ricorrente è uno di quei pattern per utilizzare una una parola tipica del Legal Design è uno di quei patterns ricorrenti credo che come in tutte le discipline noi conosciamo magari siamo più familiari con quella della giurisprudenza credo che l'unico modo per cercare di cominciare a colmare questo gap sia con tramite il dialogo tra gli esperti e occasioni di divulgazione come anche quelle che stiamo facendo adesso bisogna cominciare a parlarne se magari avessi parlato tre anni fa ad una conferenza di Legal Design la gente mi avrebbe guardato come un'aliena adesso se adesso parlo a conferenze di Legal Design tranquillamente la gente sa di che cosa mi occupo poi tra l'altro vorrei anche dire spesso c'è questa contrapposizione di nuovo immaginiamocela in ambito giuridico è quello che conosciamo tutti tra gli accademici, gli avvocati, i giudici da un'altra parte alla fine non per fare un discorso ecumenico ma siamo tutti giuristi nel senso che gli avvocati prima di esercitare studiano all'università, studiano sui libri scritti dai docenti, dalla dottrina, studiano la giurisprudenza, la legislazione poi si specializzano in un settore, esercitano, acquisiscono tutta una serie di abilità che l'università magari non offre hanno il contatto con i clienti, capiscono quali sono i problemi reali della gente e contribuiscono anche a creare nuove soluzioni perché come che avvengono i cambi, i nuovi precedenti in giurisprudenza perché c'è un avvocato che a un certo punto propone un'interpretazione innovativa il giudice l'accoglie e arriviamo a nuove soluzioni giuridiche che poi i professori studiano, commentano finiscono nei libri e una nuova formazione, una nuova classe di giuristi si forma in quel modo quindi c'è questo ciclo continuo e ognuno ha il suo compito, il suo ruolo, l'importante però è anche cercare di superare questi stereotipi, queste contrapposizioni dell'accademico che si occupa solo della teoria dell'avvocato che fa solo la pratica, io vedo solo ricerca, quindi la ricerca la può fare l'avvocato la ricerca la può fare il giurista in house o la cellula di R&D di una società quindi secondo me ecco quello è il modo migliore per creare questo sbosiccio è vero però che c'è una difficoltà, un ostacolo, al momento che era quello a cui Arianna accennava c'è prima un ostacolo giuridico ma anche in generale in realtà se ci focalizziamo sulla letteratura straniera non è che ci sia ancora tantissimo sul legal design, quindi c'è anche un po' un gap da colmare in termini di ricerca scientifica, di pubblicazioni e un altro problema intrinseco, forse caratteristico del legal design è che molti degli output del legal design non sono la classica pubblicazione scientifica, magari sono un prototipo appena abbozzato che non può essere ospitato nelle tradizionali pubblicazioni. E qui magari ti interroppo ci sono anche problemi di riservatezza a volte di documenti ad esempio aziendali che non è che possono essere... E lo so, quello è un problema che io non mi pongo perché in realtà appunto da la libertà ecco dell'aspetto bello dell'ambito accademico è che noi pubblichiamo per tutti, quindi non non ci poniamo in effetti il problema del know-how, del segreto, della confidenzialità eccetera. Scusami se stavi perdendo. No, 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 vai, vai, finisci pure. Però anche lì sono anche cose che si possono superare, nel senso anche quando io vengo anche di background, mi sono sempre occupata di privacy e di proprietà intellettuale, nell'ambito della proprietà intellettuale c'è sempre un poco questa tensione tra protezione dell'inventiva, del contributo originale da un lato e dall'altro comunicazione. Ci sono anche delle strategie per tutelare, incentivare la creatività senza bloccare però il processo di condivisione e quindi poi lì si può vedere con licenze eccetera. Quindi non necessariamente ecco il segreto è il modo migliore per preservare il proprio ambito. Anche per... vai. No, 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 io sto sempre credendo che tu stai avvenendo e poi mi blocco. No, allora comunque anche dal mio punto di vista, mentre all'inizio ero un po' scettico di approcci calati o comunque di iniziative calate dall'alto, devo dire, perché ad esempio parliamo ora di information design, di documenti, pensiamo in materia assicurativa, che cosa orrende, che documenti con icone che sono state imposte alle assicurazioni, ad esempio in Italia con incone senza senso e così via. Quindi credo che l'iniziativa è dall'alto sempre paura, cioè faccio sempre dieci passi indietro per lo spavento, però in realtà forse l'approccio, cioè dall'alto può essere calato dall'alto, può essere anche utile, ad esempio un'iniziativa del garante privacy che ha patrocinato, cioè il patrocinio del garante privacy ad l'Hackathon è stato molto utile a dare risonanza all'evento. Ancora a livello più ampio il GDPR, parlando di visualizzazione dell'icone eccetera, c'è introdotto alla grande platea di giuristi un tema probabilmente del tutto nuovo, cosa di cui prima appunto non si parlava affatto. O ancora a livello il regolamento che ha imposto la sintesi contrattuale, introducendo tutti degli elementi di design ai documenti, ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, dicendo come devono essere i documenti, possono essere elementi visuali e così via. Anche quello, cioè è un modo questo approccio dall'alto di veicolare dei concetti di design ai giuristi che sono tendenzialmente prestano più attenzione, diciamo così, all'autorità, alle iniziative dell'autorità o alle fonti di diritto. E ad esempio una cosa che è auspicabile per il 2021 secondo me sarebbe l'iniziativa da parte dell'autorità come il garante privacy in Italia. Come ha fatto la CNIL in Francia, cioè quel lab, che non mi ricordo l'indirizzo del sito, magari poi lo diamo, in cui il design lab, cioè relativo proprio alla privacy, in cui fa vedere in maniera pratica, concreta, come può essere richiesto il consenso, come può essere costruito il forma e poi fa delle considerazioni di carattere tecnico. Proprio in questo momento è aperta, o non mi ricordo se è stata chiusa la consultazione pubblica sui cookies e in Italia da parte del garante italiano. Ho visto molte documenti di commento avanzati a queste linee guida nuove sui cookies e molti dicevano vorremmo che fosse più chiaro che cosa si intende, vorremmo più esempi pratici relativi ad esempio al consenso per banalizzare tramite scroll. Che cosa vuol dire? Ecco, secondo me nel momento in cui il garante anziché rispondere con un documento, cioè come era la vecchio provvedimento sui cookies, che è abbastanza difficile da interpretare, rispondesse con un sito tipo quello della CNIL, cioè farebbe una grande opera sia divulgativa, chiarificatrice e sottolineerebbe l'importanza del design anche nell'ambito della privacy. Sì, no. Prego. Posso dire qualcosa? Giorgi, sono assolutamente d'accordo con te. Personalmente ammiro molto il lavoro che viene fatto alla CNIL e colgo tutte le occasioni che ho per invitare soprattutto una ragazza che lavora, che è una delle responsabili di questo, penso che sia chiamato laboratorio, comunque laboratorio di innovazione, la LINC, no? Lei si occupa anche delle varie pubblicazioni, si, fra l'altro hanno anche un team che si occupa di essere dentro le varie investigazioni che fanno per, no? Ad esempio contro Google, contro Amazon, l'utilizzo dei cookie, eccetera, eccetera, quindi c'è anche molta ricerca empirica dietro. E però c'è, innanzitutto è un grandissimo team, è un grande team in cui ci lavorano tante persone con professionalità diverse e ci sono dei designer che ci lavorano. Mi chiedo, quando vedremo in altre autorità garanti il fatto che si vengono, che vengono, che si prendono a lavorare per sé, insomma, dei designer e non dei giuristi? Forse questa è anche una domanda. Infatti, infatti, quello è una, esatto, è una delle cose che ho posto, cioè si parla tanto di dark pattern, no? Ne parla, adesso si è il garante privacy, ne parla l'antitrust, ma a livello di autorità sanno che cos'è un dark pattern, cioè sanno valutare quando hanno di fronte un dark pattern perché, oppure no, io dico di no perché all'interno del loro team non c'è il designer, non c'è quello che ne sa di scienze comportamentali, scienze cognitive, di UI, di UX, eccetera, eccetera. E quindi quello sarebbe un'altra cosa auspicabile che secondo me non sarà tra un anno, tra due, tre, tre anni, non lo so. E mi fa sorridere, mi ha fatto sorridere anche il fatto che quando nella Commissione Europea, almeno questo qualche mese fa, non so se le cose sono cambiate, si parlava di dark patterns proprio, in una interrogazione forse di qualche parlamentare, non lo so, la risposta ufficiale è stata che dark patterns sono quelli descritti al sito darkpatterns.org, che non so se voi due lo conoscerete di certo, gli altri no, è il sito creato da un designer, non so come si pronuncia, Brignull, Brignull, in cui ha fatto un elenco appunto di questi dark pattern. E la Commissione Europea appunto mi fa sorridere il fatto che rimandi a lui per darne una definizione, perché probabilmente all'interno del suo team, diciamo così in senso lato, non ha qualcuno che sia esperto di questo. E quella può essere una delle grandi sfide del futuro, cioè inglobare dei designer all'interno di team, di giuristi in genere, diciamo. Sì, probabilmente il riferimento a Brignull era perché in effetti è stato uno dei primi a occuparsi del tema e anche a coniare il termine. C'è molta ricerca che sta andando avanti al momento, ci sono anche definizioni contrastanti di dark patterns, quindi quello in effetti è un tema caldo su cui appunto mi auguro che il 2021 ci porti più tempo per fare ricerca lì, però è assolutamente ragione sul discorso dell'interdisciplinarietà, nel senso che intanto uno non può fare legal design da solo, cioè non è un lavoro per uomini solitari, per donne solitarie, bisogna farlo necessariamente in gruppo e se già non si hanno le competenze necessarie per approcciare un determinato problema, banalmente il minimo direi è un giurista e un designer, vuol dire che già stiamo sbagliando qualcosa ed è questi team interdisciplinari è qualcosa che mi auguro di vedere presso la Commissione Europea, al Parlamento Europeo, ci sono alcune iniziative che sono state proposte, poi per la Commissione lì c'è anche un team di supporto del Joint Research Center, però il vero discorso è quando vedremo in uno studio legale che dice di fare legal design un designer, quindi perché il tuo prossimo assunto non è un designer, quindi secondo me dobbiamo cominciare a entrare anche nell'ottica di questo, tipo di creare una squadra, creare un team. E a questo proposito allora, visto che ci abbiamo alla fine, una cosa, a livello, ci sono anche delle domande in questo senso, a livello di formazione ci sono avvocati che ne hanno sentito parlare, però non hanno ancora ben chiaro che cosa sia, o comunque non hanno delle basi, diciamo così, di design, che sia information design, service design, quello che sia UX design e così via. Voi che consigli dareste? Cioè parti da dove? Arianna? Mi fa una domanda difficile, direi parti dal corso di legal design di Rossana alla UC Louvain, che fra l'altro se non sbaglio dovrebbe essere open e non so se addirittura online. Beh ci sono molte risorse, magari cercare in inglese chiaramente, per quanto mi riguarda io ho studiato molto, ho studiato molto vuol dire studiare su dei libri, su dei volumi, leggere molto, guardare tantissimi esempi di quello che viene fatto, ci sono anche ricorsi online di design, perché forse la cosa più, il punto di partenza è veramente, in realtà è una frase che viene utilizzata spesso, non è mettersi, no? Cosa sono, cos'è il design? È un paio di occhiali, cioè è un paio di occhiali che tu ti metti e vedi la realtà completamente diversa, cominci a vedere i problemi che ci sono davanti a te e cominci anche ad avere l'idea di come si possono risolvere. Può essere qualunque cosa, può essere che il fatto che una porta sembra che debba essere spinta e invece deve essere tirata, cioè può essere veramente tutto, cioè poi lo applichi a 360 gradi quello che veramente nella tua vita, nella tua vita pratica, non soltanto a livello professionale, quindi forse proprio questo cambio di prospettiva che deve essere attuato e sicuramente si può fare anche con un apprendimento anche individuale per cominciare, quindi curiosità forse. Sì, quella è la prima cosa, avere curiosità. Rossana, tu, Arianna ne parlava di un corso, vuoi dirci di più? Sì, ho messo il link nella chat, sì, è un corso che va avanti, ora cominciamo il terzo anno, è quello che dicevo all'inizio, l'European IT Law by Design, è aperto solo agli studenti in realtà, però ci sono alcuni seminari che sono aperti a tutti, quindi quelli sicuramente verranno pubblicizzati sul sito, quindi poi lì se andate a guardare la pagina degli eventi vengono pubblicati regolarmente e c'è anche una bibliografia, ecco, se volete partire da qualcosa anche sul sito trovate delle risorse bibliografiche per così iniziare, avere un primo assaggio. Allora, se posso dire la mia, allora ci sono, visto che è una materia sterminata e che secondo me nasce proprio questo, il fatto che sia sterminata nasce dall'equivoco di fondo, cioè che si parla di legal design, ma non si parla di health design, non si parla di design, che so, della finanza o così via. E legal design, cioè significa il legal, il diritto è ovunque, il diritto può essere un documento, il diritto può essere un servizio come quello della giustizia, visto che prima si è parlato di access to justice e il diritto è quello che noi avvocati, il servizio è quello che noi avvocati forniamo ai clienti, quindi è una cosa veramente sterminata. Allora, secondo me si può partire, cioè come avvocato dico, se qualcuno è curioso e vuole approfondire, si può partire per punti. Affrontare, ad esempio, probabilmente sì, l'aspetto, tra virgolette, è più semplice, che è quello relativo all'information design. Visto che noi avvocati facciamo tanti documenti, così iniziamo a capire come scrivere quei documenti, come strutturarli e come anche comunicarli al cliente. E a questo proposito, visto che ce l'avevo qua, io consiglio, secondo me, questo libro, però in inglese, non so se si è già, poi metto i riferimenti sulla chat, attenzione, ora li scrivo, non l'edizione italiana di questo libro, che è stata una cosa oscena, è stata tradotta male, impaginata male, bruttissima, ma l'edizione in inglese, perché qui ad esempio dà dei concetti relativi al graphic design, alla tipografia molto basici, che però ti danno un primo input. Dopodiché si può andare ad approfondire, a livello di tipografia, che esiste, è Typography for Lawyers, il famoso libro di un designer e avvocato americano, e quello appunto relativo più alla grafica. Rispetto invece alla metodologia, diciamo così, al processo, beh ci sono tantissimi corsi, sia online, no, adesso tutti online, ovvio, sia gratuiti che a pagamento, gratuiti, andate su Corsera, ce ne sono veramente di buoni, relativa ad esempio al design thinking, o ne sta partendo uno dell'Acumen, cioè dell'IDO, la famosa agenzia di design, ed è gratuito quello, partirà, se non sbaglio, tra una settimana. E lì vi fa appunto scoprire a livello di procedura, di metodologia, molte cose nuove, vi fa aprire gli occhi, dopodiché si va ad approfondire con tante letture, tanti libri, e non si finisce mai di imparare. Probabilmente però l'altra cosa, si impara tanto sul campo, ovviamente, tantissimo sul campo, io, cioè, collaborando con designer, ho imparato tante robe che sui libri non li ho apprese. Vogliamo, allora, vediamo, leggo alcune domande intanto. Alessandro dice, non è che l'information design è predominante perché il più facile da copiare alla privacy policy di Juro è stata copiata senza grandi interventi. Ma probabilmente è predominante perché è la cosa più visibile, no? Cioè la comunicazione, cioè ciò che risalta subito agli occhi, io la vedo, io la tocco, diciamo così, in senso metaforico, e quindi è la cosa più, diciamo, che viene immediatamente compresa. Le procedure, appunto, sono un qualche cosa, il back-end, diciamo così, è più complesso da apprendere. E io, ripeto, io l'ho visto nell'ambito del, nel produrre alcuni documenti, cioè tutto il lavoro che c'era dietro insieme all'UX designer, all'UI designer, e così via, ho appreso cose che non sapevo. Vediamo altro. Ah, un altro mio consiglio è questo, a tutti i miei colleghi giuristi. Il primo step probabilmente può essere quello relativo alla scrittura. Cioè noi scriviamo male, punto, noi avvocati, e possiamo parlare quanto vogliamo di legal design, ma se poi andiamo a scrivere, a parlare, soprattutto a scrivere in maniera complessa, non c'è, diciamo così, icona che tenga, non c'è schema che tenga. E ne ho viste di esempi di questo tipo. Quindi curiamo la scrittura tantissimo, e lì si apre un mondo a parte, quello relativo alla scrittura. Sì, curiamo il pensiero. Far parte tutto dall'altro, l'ordine del ragionamento che poi dovrebbe trovare corrispondenza in una scrittura chiara, quindi se quello ammonte il pensato è chiaro, poi anche la scrittura dovrebbe risultare chiara. E anche cerchiamo di abbandonare un po' il mito che dobbiamo parlare in maniera complessa, perché se no la gente pensa che non siamo dei giuristi colti o dei giuristi seri. Vi racconto un aneddoto. Sono, diciamo, avvocato abilitata alla professione forense, scusate, non sono iscritta al registro. Quindi, diciamo, sono l'avvocato di famiglia, quindi ogni tanto mi capitano cose così familiari di parenti che magari mi chiedono, mi rileggi queste cose, eccetera. E magari anche per una semplice lettera di intimazione, eccetera, la rileggo e apporto delle correzioni. E a volte mi dicono, ma non è troppo semplice, ma perché hai semplificato questa cosa? Ma non è un po' troppo terra-terra? Mi sembrano voler di, non lo dicono, mi dicono, no, che l'ho degiuridicizzata. No, in realtà no. Se è più comprensibile, tanto meglio. Quindi anche noi cerchiamo un poco di adottare un altro approccio. Non è con delle belle parole che ci ammantiamo del sapere giuridico. Tra l'altro, proprio a proposito di questo, io quello che dico anche ai miei colleghi, che questo è un vantaggio competitivo enorme, perché oggi in un'epoca di, si dice, di infodemia, quindi siamo sommersi dalle informazioni e così via, chiunque tra noi a livello di clienti, ma chiunque vuole avere, andare dritto al punto. E nel momento in cui ha un consulente, un avvocato, che va dritto al punto che non gli fa perdere tempo, quello viene visto con grande favore. Lo vedo io nel lavoro di tutti i giorni. E proprio ieri, parlando con una mia parente, insomma, aveva un problema di condominio. Il condominio ha chiesto un parere ad un legale in merito ad una questione, ad una dita tra condomini. Il legale gli ha dato il parere e tutti quanti hanno detto, ok, quindi che significa, che dobbiamo fare? Ed erano tutti arrabbiati con questo legale, infine hanno imposto all'amministratore di chiedere il parere ad un altro legale, perché quello non si capiva, cioè, che cosa volesse dire. Ah, non lo paghiamo, sono soldi buttati inutilmente. Attenzione, perché questo, appunto, è uno svantaggio in questo caso incredibile, che va a carico di quell'avvocato. E quindi, ecco, io a tutti gli avvocati che sono collegati dico, è un vantaggio e lo si vede, io lo vedo giorno dopo giorno, insomma. Naturalmente non significa diventare triliali, niente, ma semplicemente essere chiari. Sì, poi sul tema della scrittura, ripeto, si apre un mondo, e anche lì, a livello di scienze, di ricerche, di scienze cognitive, ci sono fiori e fiori di ricerche, una delle quali è citata dal premio Nobel Kahneman, nel solito pensieri lenti, pensiero veloce, in cui si dice, si dimostra che anche il linguaggio giuridico, se troppo complesso, in realtà non trasmette un'idea di autorevolezza, tutt'altro, anziché chi comunica in maniera più semplice viene percepito come più degno di fiducia, di aspetto. Ripeto, su queste ci sono tante ricerche a livello di scienze cognitive, e per questo a livello di legal design è importante anche avere quelle cognizioni lì, o comunque leggere anche, sia, ricerche in quel campi lì, svolte in quel campi lì. Ora, allora, leggo, ci sono altre domande. Intanto, se qualcuno vuole intervenire, anche a voce, credo lo possa fare, può aprire il microfono adesso. Leggo intanto delle domande. Sì, possono aprire il microfono, se possibile sempre, magari, dicendo chi siete, così facilitiamo anche la conversazione, ma volevo anche ricordarvi il manifesto sul legal design, se volete, visto che siamo alla versione 2 e siete aperti i commenti, io metto il link, poi, se lo volete spiegare, ho tu, rossano, Arianna. Magari ci dicono un principio, uno di quelli che, visto che siamo in tempi stretti, quelli che avete più a cuore, una delle cose che vi preme di più, ecco, che vengono trasmesse. Posso, guarda, dire veramente due parole, anche rilegandomi a alcune domande che vengono fatte, perché mi sembra qui nella chat c'è, e quindi che cos'è il legal design? Ok. Che cosa e cosa non è? Che è una domanda che Rossana, io e Rossana e tanti altri ci poniamo da tempo ed è il motivo per cui abbiamo scritto il legal design manifesto, soprattutto anche chiedendoci come accademiche cosa sarebbe come disciplina il legal design, dove si situerebbe, dove dovremmo pubblicare, dobbiamo pubblicare in giurisprudenza, dobbiamo pubblicare in Human Computer Interaction, dobbiamo pubblicare in informatica, che cosa siamo, che animali siamo, che creature siamo. E quindi, ecco, magari soltanto due parole di introduzione per questo legal design manifesto, che è stato scritto Rossana Correggimi nel 2018, e poi, diciamo, quindi è stato un lavoro collaborativo, soprattutto, diciamo, che ha cercato di cristallizzare alcuni dei pensieri delle pratiche che avevamo, hanno collaborato chiaramente, in modo molto importante, Margaret Hagan, quindi un'alluminare, diciamo, del legal design, un punto di riferimento a livello mondiale, ma anche Elena Capio e Stefania Passera, che anche loro sono stati precursori al femminile, non so se dice precursorici, non credo, comunque, precursori donne del legal design in Europa, molto importante, perché hanno cominciato a pubblicare di questi temi, e la professoressa Monica Palmirani, quindi questo lavoro collaborativo, siamo venuti fuori con questa prima versione del legal design manifesto, anche perché affinché avere un documento, qualcosa di concreto, di tangibile, al quale puntare nel momento in cui ci viene richiesto che cos'è il legal design e cosa non è, e quindi per questo abbiamo cercato di mettere giù dei principi. Quello che però vorrei anche dire in questo momento, è che abbiamo lavorato negli ultimi mesi a una redesign di questo manifesto, perché? Fondamentalmente perché c'era un sacco di testo, era lunghissimo, gente che ci diceva, non riusciamo a trovare le informazioni, non riusciamo a capire cose più importanti, quindi avevamo, diciamo, la prima, come era un prototipo, chiaramente, come sappiamo bene, i prototipi evolgono, e devono evolvere a seconda dei feedback che si ricevono dalle persone che poi devono utilizzare quel prototipo, e quindi abbiamo lavorato su una seconda versione che non è ancora online, in cui abbiamo integrato appunto molti feedback che sono stati dati, in cui abbiamo cercato di, diciamo, di riassumere molto questi principi, siamo venuti fuori conto dei principi. Il mio l'ho già, diciamo, l'ho già parlato, quindi la multidisciplinarità e il fatto che bisogna basarci su ricerca empirica, secondo me è molto importante, sono due dei principi, e lascio a Rossana il resto. Sì, no, abbiamo scelto lo stesso, nel senso che, sì, multidisciplinarità o interdisciplinarità, ognuno esperto del proprio dominio, della propria disciplina, ma capace di comunicare con altri esperti di altre discipline, quindi non dobbiamo essere esperti, giuristi enciclopedici, esperti di tutto, è la famosa formazione a T che mi ha inculcato fin dal primo anno di giurisprudenza il professor Pascuzzi a Trento, quindi ognuno ben saldo nel proprio ambito, ma chiaramente devo essere in grado di capire qual è il valore aggiunto delle altre competenze, mettere a servizio queste competenze, fare parlare, fare interagire tutti gli altri esperti, e poi risolvere un problema giuridico. L'altro punto del manifesto a cui sono molto affezionata è la cosiddetta openness, cioè l'apertura, il fatto di creare risorse riusabili come i design patterns, le toolbox, e quindi anche avere l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche appunto per condividere idee, best practices, del resto, se non c'è comunicazione nella scienza, non si può avere conoscenza, quindi questo è un altro pilastro fondamentale. Eccomi, sì. Sì, ci sono appunto altre domande nella chat, leggevo allora che, quindi che cosa significa in concreto legal design, soluzione giuridica ad un problema o consulenza stragiudiziale illegalese, detto in inglese, non in legalese, scusate. In realtà, in senso lato, una delle cose che secondo me bisogna sottolineare è quella che ha detto Arianna all'inizio, cioè che un approccio non è un metodo, non è una disciplina, si dice il design thinking applicato al diritto, no, è più che altro un approccio multidisciplinare per trovare la soluzione o per prevenire un problema di tipo legale. Questo problema può essere legato a un documento, quindi può essere il rifacimento di un documento, può essere legato ad un servizio, come dicevo io, quello che l'e-commerce offre, che noi avvocati offriamo ai clienti. E proprio a livello di servizio, ad esempio, pensavo ad un articolo che è stato pubblicato proprio ieri o due giorni fa da Margaret Hagan, che preannunciava, diciamo, un laboratorio, un seminario, non so come definire, un webinar della Stanford relativo ai processi online. Cioè adesso stiamo andando, come avvocati, stiamo andando tutto online e allora in quel webinar lì a Stanford tra un mese, credo, si confronteranno su cosa? Sul riprogettare online un procedimento giudiziario e riprogettarlo tenendo presente il punto di vista degli utenti, cioè non solo del giudice, non solo degli avvocati che devono depositare documenti, magari in maniera telematica, devono collegarsi via Zoom e così via, ma anche il punto di vista degli utenti del singolo, del cittadino, che fa causa o del cittadino contro cui è intentato un processo e così via. E lei nell'articolo poneva una serie di problemi che immagino verranno approfonditi nel corso webinar relativi a tutti gli aspetti psicologici, sociologici, tecnologici relativi a questo, al imbastire un processo, un procedimento giudiziario online. Perché, e questo significa rifare, riprogettare, veramente poi in tempi rapidi, un servizio che fino ad ora è stato pensato prevalentemente in maniera fisica nel mondo degli atomi in maniera digitale. Anche questo è da considerare un tipo di, si può considerare il legal design, no? E io su questo, per me sì, c'è dall'altro lato il tema che può essere troppo ampio l'ambito del legal design oppure comunque il concetto di legal design. però a mio parere, non so cosa ne pensate voi, questo è uno dei fulchi, cioè anche quindi l'access to justice, però la riprogettazione di un servizio significa ridisegnare, sì, quindi si tratta di legal design. Che cosa dite? Sì, credo che sia un esempio, una possibile applicazione del legal design, sicuramente, abbiamo anche detto che c'è tanto altro, legal design allora è semplicemente quella che noi conosciamo in Italia come consulenza stragiudiziale, no, direi i due concetti non sono perfettamente sovrapponibili perché rispondi, se il legal design può essere utilizzato per offrire consulenza stragiudiziale, sì, sicuramente, ma sono due concetti che terrei separati. Rossana dovevi andare, credo, se non sbaglio. Sì, venti minuti fa. Infatti ho scritto, ho detto che sono in ritardo. Ci abbiamo alla conclusione. Se, ripeto, volete porre delle domande di qualsiasi tipo, fatevi sotto. Insomma, Alessandro, hai qualcosa da dire aperto il microfono? No, più che altro c'è una domanda magari che trasfuggita prima di Lorenzo che chiedeva se la multidisciplinarietà così spinta non rischia di travalicare il concetto stesso di legal design e quindi diventare un qualcosa di diverso che a me ha fatto pensare proprio al tema del non è che uno dei limiti anche del legal design è insito nella sua stessa natura, cioè il legal design sostanzialmente è qualcosa di interdisciplinare che non è mai fermo riceve dei feedback si evolve migliora e quindi può essere anche difficile comunicare all'imprenditore all'azienda che deve investire in un qualcosa che potenzialmente non deve avere una fine ma deve essere una continua evoluzione. Voi avete mai intercettato questo questo limite? Lo vedo solo io? Sì, può essere il problema anche lì della prototipo che è un problema all'attere probabilmente c'è del prototipare del ideare una soluzione del testare una soluzione che non è quella definitiva però secondo me si può fare sempre qualche cosa cioè in progress che però rispetti comunque le best practices in quel momento che si credono o comunque i vincoli giuridici in quel momento io nel momento come avvocato nel momento in cui voglio scrivere diciamo così un contratto riprogettarlo posso fare posso rivolgere un design quello che sia nella maniera migliore possibile in quel momento probabilmente poi ci saranno altre soluzioni migliori l'importante è che sia migliorata la soluzione di partenza e che sia risolto il problema che veniva posto dall'imprenditore che ad esempio si è rivolto a me ci possono essere l'altro consiglio che do io è del si dice start small no cioè piccoli progressi alla volta un po' per volta io vi dico una cosa banalissima fatta anni fa mi ero reso conto cioè parlando con i clienti con imprenditori che quando chiedono un parere quindi un documento scritto che via nel quale io esprimo il parere relativa ad una questione legale che loro mi hanno sottoposto tutti quanti mi dicevano cioè un po' alla volta interagendo con loro ho capito ok io voglio subito capire rispetto a questo che cosa posso fare che cosa non posso fare quali sarebbero le conseguenze della soluzione A o della soluzione B e allora rispetto a questo io ho detto che iniziamo a riprogettare il documento il parere come documento legale partendo dal questo è il quesito che mi fanno nel momento in cui è chiara la soluzione questa è la soluzione e soltanto dopo sono arrivato a questa soluzione dando i vari passaggi logici cioè se loro poi volevano andare ad approfondire lo facevano non lo facevano però lo facevano in un secondo momento e loro in questo mentre normalmente noi avvocati diciamo ok premesso ok andiamo le fonti la legge dice questo e alla fine magari dopo dieci pagine diciamo questa secondo me è la soluzione o nel caso del condominio che ho citato prima non prospettavo la soluzione non si capiva che cosa volesse dire anche quindi questo piccolo questo piccolo come dire questa piccola miglioria questo farsi un passo verso il cliente a me ha dato tanti vantaggi cioè i clienti poi io ho chiesto loro ho detto così vi va bene un documento di questo tipo ah sì grazie perché comunque io lo leggo tutto però in quel momento magari quando sono impegnato così mi leggo la prima parte quindi so già più o meno che cosa posso fare che cosa non posso fare poi magari vado ad approfondire quindi era anche lì una cosa in progress probabilmente cambierò faccio per dire la struttura del documento forse chissà però il partire piccoli senza stravolgere chissà che cosa mi ha aiutato a migliorare la soluzione in partenza e a trovare una soluzione al loro problema in questo caso non so voi che cosa volete dire se volete dire qualcosa nulla su questo ok va bene ok allora direi che siamo andati abbastanza anche oltre il tempo che era stato preventivato grazie di nuovo ad Arianna e Rossana c'è tanto da fare secondo me c'è tanto da dire c'è tanto da diciamo da divulgare più che altro e questo voleva essere appunto solo come anche primo webinar dell'anno un primo passo verso questa consapevolezza che può essere diffusa all'estero io in particolare ci teniamo proprio per far capire che il legal design è ben più di un semplice documento scritto o comunicato in una certa maniera e a proposito di questo c'è una domanda che viene posta da Valentina dice i principi del plain language o del plain language come si pongono rispetto al legal design ne fanno parte integrante si direbbe come un giurista cioè è il primo step secondo me è il primo step cioè parliamo iniziamo a scrivere a parlare chiaro e poi andiamo sempre più in profondità e poi andiamo a costruire i nostri mattoncini verso la risoluzione di problemi la progettazione di soluzioni e così via quello è il primo step ne fa parte integrante per questo bisogna partire da lì secondo me allora allora sì stavo continuando a leggere la chat magari il corso sul design thinking lo devo trovare IDO scrivete IDEO ad esempio cercate questo oppure cercate queste parole su Google indicando Acumen design thinking dovrebbe partire il corso secondo me il 19 di gennaio l'ho visto proprio l'altro giorno ed è gratuito aperto a tutti attenzione dura due mesi se non sbaglio quindi è impegnativo perché è impegnativa la materia non è un qualche cosa di semplice ricordo a tutti l'ultima cosa prima di chiudere abbiamo ora attivato il canale Telegram di Legal Hackers Milano perciò se avete Telegram iscrivetevi pure lì perché è il canale che privilegieremo adesso per discutere delle varie iniziative di Legal Hackers ma di tutti i temi relativi al diritto diciamo così alle tecnologie o comunque ai temi che trattiamo con Legal Hackers ho linkato il corso relativo al design thinking al human centered design in particolare ce ne sono tanti altri basta cercare se ne trovano e nel caso appunto continuiamo questa conversazione sul canale Telegram dove magari vi posso dare ulteriori notizie con più calma relative ai corsi di nuovo grazie ad Arianna e grazie a Rossana per la vostra disponibilità magari ci troveremo altre volte a parlare di altri aspetti di Legal Design o comunque di diritto e tecnologia grazie ancora e ci rivediamo presto come Legal Hackers avrete notizie tramite tutte le nostre social il canale Telegram sui prossimi eventi grazie ancora e un saluto a tutti grazie mille a te Giorgio ciao ciao a tutti ciao ciao